Se sei alla ricerca di comodità, comfort e prestazioni, Seat Ateca è il modello giusto per te. Ciao a tutti, sono Matteo Aruta, consulente vendite della concessionaria Autosystem Seat di Palermo. Oggi vi presenterò Seat Ateca. Il SUV della casa spagnola esce sul mercato nel marzo del 2016, con una serie di restyling che ci portano a questo modello che è il restyling del 2022. Per scoprire i listini e le offerte del mese, basterà andare sul nostro sito www.autosystem.com dove troverete le informazioni della vettura, sulle motorizzazioni, sul cambio automatico e manuale e sui singoli allestimenti. Potrete quindi scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze. Seat Ateca è perfetta per esigenze familiari, per i viaggi e per il tuo business. Infatti è immatricolabile come autocarro N1. Il SUV spagnolo si estende per 4,38 m di lunghezza, per 1,80 m di larghezza e circa 1,60 m in altezza. Il frontale di Seat Ateca è in perfetto stile Seat. E' caratterizzato da fari full LED e fari fendi nebbia LED. Potrai scegliere tra i 4 allestimenti disponibili per Seat Ateca. Il modello base Reference, Experience Business ed FR, il modello più sportivo. I cerchi variano a seconda dell'allestimento. Partiamo dai 16 pollici del modello base, fino ad arrivare ai 19 pollici del modello FR sportivo della gamma. In questo specifico caso parliamo di un cerchio da 17 pollici, in lega, per il modello Business. Nello specifico, nell'allestimento Business, il bagagliaio è elettroattuato. Andiamo ad aprirlo e vedremo che la capienza di questo bagagliaio è di 510 litri, con possibilità molto semplice di abbattere i sedili posteriori e di raggiungere una capienza di 1.600 litri. Il bagagliaio può avere o il doppio fondo o, come in questo caso, la ruota di scorta con il kit di riparazione. La comodità del portellone elettroattuato è la facilità di chiusura, attraverso il tasto Q. Siamo a bordo di Seat Ateca. Come puoi vedere, l'assetto di guida è molto alto e confortevole. I sedili sono comodi e avvolgenti e possono essere in tessuto classico, microfibra e pelle nera. Questo allestimento Business presenta un bracciolo anteriore con vano portoggetti spazioso e capiente. L'allestimento Business presenta inoltre un volante multifunzione in pelle con cambio manuale in pelle. Il Virtual Cockpit è da 10,25 pollici ed è, attraverso il tasto View della multifunzione del volante, personalizzabile in tre modalità. Presentiamo inoltre il Display Touch da 9,2 pollici con navigatore integrato. Un infotainment con Apple CarPlay e Android Auto attraverso anche il Seat Full Link che dà la possibilità di utilizzare le applicazioni del telefono direttamente dal tuo schermo. Seat Ateca presenta un Climatronic Trizona con bocchiette anteriori e bocchietta posteriore, con possibilità di avere quattro porte USB di tipo C, due nell'anteriore e due nel posteriore. Presenta otto altoparlanti in tutta l'auto, per una qualità di audio ottimale. Seat Ateca presenta sensori anteriori e posteriori di parcheggio con telecamera di retromarcia. Gli ADAS presenti e sistemi di sicurezza di serie in Seat Ateca sono il mantenimento di carreggiata, quindi line assist, frenata d'emergenza, front assist e rilevamento stanchezza del conducente. Con Seat Ateca anche i vostri passeggeri possono viaggiare nel massimo comfort e con grandi spazi, con possibilità inoltre di avere un bracciolo centrale con portabicchieri integrato. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando seguiteci nei nostri canali social per rimanere aggiornati sui nostri contenuti. Vi aspetto in concessionaria per un test drive.